Questa mattina il settimanale Viva e Donna ha lanciato un'indiscrezione su Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini che puzzava di bufala lontano un miglio E infatti l'ex showgirl, tramite le sue storie di Instagram, ha categoricamente smentito Non trovo carino dire cose in più perché altrimenti la gente ci sguazza sopra e non è carino, ma smentisco tutto quello che sta uscendo ora Non ha senso nulla. Più di questo non dico. Antonella Mosetti ha poi approfittato dell'interesse mediatico del momento per parlare di suo padre in fin di vita e lanciare un appello Anzi, una cosa che da giorni mi sento di dire, ho passato la maggior parte dell'estate fra casa e ospedale a causa di mia padre, che non è stato bene, ha una malattia molto grave Siamo dovuti ricorrere a una clinica specializzata in persone anziane che hanno malattie molto gravi, proprio come a lui Magari farò una campagna per sensibilizzare ancora di più tutte queste persone che sono rimaste sole e hanno bisogno . . . Lo Stato ci aiuta molto poco, quindi questo mi preme e vorrei concentrare il mio tempo su questo Mosetti Bettarini, cosa ha scritto Diva e Donna? Clamoroso, Mosetti, prima il padre, ora il figlio 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c'è il giovane Niccolò Niccolò Bettarini, al contrario dell'ex showgirl, non ha commentato la notizia Ma ci ha pensato lei a smentire e questo basta